Se si è continuato ad andare avanti puntando sul turismo e sulla cultura, quando sul PIL piemontese vale 125 miliardi, il turismo e la cultura assommati valgono 12 miliardi. Quindi è evidente che quei 12 miliardi non possono rappresentare il futuro, perché se anche li aumenti del 50% non sposti il dato economico. Il Piemonte è la maglia nera tra le regioni del nord per disoccupazione, perché abbiamo voluto esaminare le conseguenze di questo dato, da cosa arriva, gli errori che sono stati fatti dalle amministrazioni comunali che hanno pensato di puntare soltanto sul turismo e sulla cultura e hanno lasciato andare via da questa città tanta manifattura, tante belle aziende che invece avrebbero potuto essere trattenute qua, dandogli degli incentivi, calando le tasse locali. La situazione del lavoro e la situazione sociale a Torino è pesantissima, siamo la società in cui c'è più alta la disoccupazione, soltanto che questa disoccupazione ormai dura da nove anni, da quando è iniziata la crisi, e non si vedono via di uscita. E questo sta creando dei drammi sociali, perché la gente non ha più risorse, ha perso soldi con la Cassa Integrazione, ha bruciato tutti i risparmi, ha bruciato i risparmi dei genitori e dei propri nonni, e questa gente, come quella povera ragazza che l'altro giorno si è bruciata negli uffici dell'Inps, se per caso perde un lavoro, anche se è un lavoro a tempo parziale, per lei è un dramma. Abbiamo chiesto alla Regione di convocare gli Stati Generali, perché la Regione ci deve dare una mossa, la Regione non può far finta di nulla del dramma sociale che c'è a Torino, della mancanza di lavoro che c'è a Torino. La Regione deve fare qualcosa. Abbiamo sì una giunta comunale che non sa dove andare, che parlava di decrescita, adesso sta zitta, però la Regione può fare molto. Per me la responsabilità di Chiamparino e della sua giunta di sinistra è pesantissima. Tre anni, non sappiamo cosa ha fatto, la situazione economica piemontese è quella che è. Siamo ultimi tra le Regioni del Nord per tasso di crescita e siamo primi per disoccupazione. Un risultato che il Piemonte non ha mai avuto nella sua storia. I dati bisogna saperli leggere. È vero che crescono le esportazioni, però come ha detto Banca d'Italia potrebbero crescere del 25% in più. E lì sta la Regione, sta il Comune, fare le cose che servono per aiutare le imprese ad esportare di più. E purtroppo invece vediamo un lassismo. Questa giunta è troppo all'acqua di rose, deve fare molto di più, deve darsi una svolta. E' per questo che noi chiediamo di organizzare gli Stati Generali in modo da poter sentire le varie proposte e, come si dice in piemontese, darsi un andi. Il volano delle riprese sono le infrastrutture. Cioè bisogna accelerare il lavoro della TAV, bisogna fare la linea 2 della metropolitana, bisogna completare la tangenziale est. Questi lavori pubblici creerebbero posti di lavoro immediatamente e renderebbero più competitivo il nostro territorio. In più bisogna rilanciare assolutamente l'aeroporto perché oggi è tredicesimo in Italia per i passaggeri. Un vero e proprio scandalo.